Ho deciso di rimettermi con la mia ex perché credo che lei sia cambiata. Cambiata? Ma se sta limonando con uno. Chi? Anna, tua ex, guardala! No, ma è cambiata. Questo lo conosco, ogni via con me alle medie. Prima non li conoscevo, li ponavano solo sconosciuti. Ciao Franco! Mi ha guardato e mi ha detto riproviamoci. E tu? E io, con quegli occhi azzurri come il mare, con quel col... E' stato il lutto alla città mentre stava con te. Vieni, smettila di dire così. Va bene. Scusi, cameriere? Dimmi. Lei per caso ci sei fatto amarica? Eeeh, ma amica, ma chi è quell'altro, quel col... Con gli occhi azzurri come il mare, grazie. Prego, vabbè. Con me era diverso, noi facevamo l'amore. Ci credo, ma ci credo. Scusami, tu per caso ti sei fatta amarica? Ti do l'ultima prova, il padre quando la deve chiamare fa... Azzocco! Non è più il ragazzo che conoscevo, adesso è una persona migliore. Ma lo spero, è stato in galera per omicidio. Tentato, ok? E poi hai visto che muscoli ha fatto in galera? Mi ha regalato dei fiori, ti rendi conto? Io adoro i fiori, mi fanno quasi eccitare, i fiori sono bellissimi. Fiumellino, perfiumellino. No, ti prego, sono allergica. Perfuma, amico, perfuma. Tantissimo, ma no, grazie. Non guardarmi così, eravamo entrambi ubriachi. Hai bevuto solo una birra, ero stomaco vuoto. Hai mangiato quattro panini. La birra era molto forte. Era alcolica. Mi manca, ok? Cazzo tu hai? Mi piace ancora. Cazzo tu hai? Sarò solo una notte di sesso, senza complicazioni. Mi sono sentita umiliata. Ed è tutta colpa tua. Sei tua, mi dovevi fermare. Che razza di migliore amico sei? Lui non si deve mettere con nessun'altra. Ma se l'hai lasciato tu? Lo so. Si rimette con me, così almeno non sta con nessun'altra. Questa volta siamo più maturi, dai. E grazie al cazzo, ha 60 anni. 58. E quattro figli, che hanno quattro figli. Più maturo di così, poi voglio dire anche divorziato, sette volte. Allora tu sei quella giusta. Certo. Ti amerà per sempre. Conosce già i miei genitori. Devo evitare l'altra figlia di presentarglielo. Loro ne devono parlare male, lo devono odiare. Questo lo odiano già, è perfetto. Quindi ti sei rimesso con la tua ex? Cambiato tutto, sto benissimo. Lì ha promesso di essere meno gelosa, vero? Oh signore, lei state zitti, stai zitto, stai zitto. Ehi amore, sono in chiesa. Sì, sono a rosario. Cambiato un sacco. Ti amo. Cambiata. Non mi va che sia felice senza di me. Ma in che senso scusa? Allora io non sto bene. Perché lì sì? Se ci fidanziamo, stiamo di merda tutte e due. Ma tu non stai bene? Ma appunto, per quello ci fidanziamo. Passiamola di più questa palla, dai! Qualcosa del suo carattere all'inizio deve essermi piaciuto. Forse, tornandosi insieme, me lo ricorderò. Sì, 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 ma tu chi cazzo sei? Questo non è il campo B. No, campo A. Ecco perché non conoscevo nessuno. E comunque, se la dovrebbero passare un po' di più. Eh lo so, lo so. Passiamola, ha detto anche questo! Sai cosa, ho pensato che forse è destino. Perché lo incontro casualmente negli stessi posti che frequento. Dove vado appositamente per vedere se si fa qualche ragazzetta. Hai detto? Che frequentiamo gli stessi posti casualmente. Prima! Destino? Dopo! Ciao Mirko? Ciao Anna, ma l'altra cosa che hai detto? Cioè, ti do l'ultima prova. Il padre quando la deve chiamare fa AZZO C***a! Ti dico solo questo. Cazzo? Che cos'è sta? Che cos'è sta? Che cos'è sta? Che cos'è sta? AZZO C***a! Che cos'è sta?